L'Iran ha definito prive di fondamento le notizie riguardanti la morte di militari iraniani in un attacco missilistico che ha colpito questa notte diverse basi militari nelle province siriane di Hama e Aleppo. L'agenzia siriana Sana, parlando di salve di missili contro postazioni militari, riferisce di un'aggressione alla Siria, senza identificarne gli autori e fornire ulteriori dettagli. La Russia non è intervenuta con i suoi sistemi da armanti aerei. Forti i sospetti di un'altra operazione militare israeliana. Interpellato dalla radio militare israeliana, il ministro dei trasporti Israel Kats ha affermato di non essere al corrente di questi avvenimenti e ha sostenuto che tutte le violenze e l'instabilità in Siria sono il risultato dei tentativi dell'Iran di impiantarsi militarmente in questo paese e che Israele non permetterà l'apertura di un fronte nord in Siria. Intanto in queste ore si riunisce il gabinetto di sicurezza dello Stato di Israele, atteso in serata il discorso alla nazione del premier israeliano Benjamin Netanyahu, dedicato all'accordo sul nucleare iraniano. Il presidente francese Emmanuel Macron, forte della presenza militare del suo paese in Siria, tra l'altro illegale, annuncia su Twitter. Ho parlato con Vladimir Putin per affrontare ancora una volta la questione. L'Iran non dovrà mai avere un'arma nucleare. La stabilità della regione e la sicurezza internazionale dipendono da questo, ha scritto Macron in volo per l'Australia. Dobbiamo lavorare su questo, così come dobbiamo lavorare, per costruire la pace in Siria. Per la guida suprema iraniana Alika Menei, che ha parlato ad un gruppo di lavoratori alla vigilia del primo maggio. Il tempo di colpirci e poi fuggire è finito. Secondo informazioni riportate dall'agenzia turca Anodolu, la Francia ha schierato forze speciali in cinque basi militari gestite dal fronte kurdo di unità di protezione popolare. Secondo la stessa fonte, anche un contingente tedesco è già entrato in territorio siriano. L'Occidente, ovvero la Nato, oramai aggredisce apertamente. Ci hanno provato sottometite spoglie con lo Stato Islamico. Adesso che la Russia ha liquidato i tagliagole, arrivano i nostri, direttamente, senza pudore. Il Qatar ha respinto la richiesta saudita di inviare truppe in territorio siriano, in coordinamento con altri paesi arabi. Per l'Emirato, il vero e proprio ultimatum imposto dall'Arabia Saudita non merita neanche una risposta, perché è parte dei tentativi del Regno dei Saud di fare il lavaggio del cervello all'opinione pubblica nel mondo arabo. Purtroppo per Iaad, osservo una nota del Ministero degli Esteri catarino, la coscienza araba è molto più grande di quello che immaginano le autorità saudite. Pare quindi che i proclami bellicosi del segretario di Stato americano Mike Pompeo, in visita in questi giorni nel Medio Oriente, contro tutte le nazioni che non si piegano all'impero degli Stati Uniti d'America, non sempre siano efficaci. Il segretario di Stato americano Mike Pompeo ha invitato le monarchie del Golfo Persico ad abbandonare le discordie, compreso il blocco del Qatar, per unirsi contro l'influenza dell'Iran nella regione. Poi è volato a Tel Aviv, dove ha subito rassicurato il premier israeliano Benjamin Netanyahu sulle intenzioni di Donald Trump. Se non riusciremo ad aggiustarlo, ci ritireremo dall'accordo sul nucleare. Alla politica anti-iraniana si starebbero allineando anche Germania, Francia e Regno Unito, che, fa sapere Londra, continuano a lavorare a stretto contatto con gli USA. Domenica scorsa il presidente iraniano Rouhani, in una conversazione telefonica con il suo omologo francese, durata più di un'ora, ha ribadito che l'accordo in vigore non è negoziabile in alcun modo. E ha sottolineato, anche se gli USA il 12 maggio annunceranno la loro permanenza nell'accordo, ma continueranno a procedere nello stesso modo degli ultimi due anni, per noi questo non sarà accettabile. È il ministero del tesoro americano a decidere della sorte dell'industria russa dell'alluminio. Aliek Dyeripaska, il re dell'alluminio russo, al centro dell'ultima pesante ondata di restrizioni annunciate dal tesoro americano il 6 aprile scorso, proprio dopo il caso Skripal, ha ceduto. Di fronte alla prospettiva di mandare in rovina il proprio impero, l'oligarca russo ha accettato di dimettersi dal consiglio di amministrazione dell'holding, Ian Plus, e di cederne il controllo, portando dal 65 a meno del 50% la propria partecipazione. Ian Plus Group detiene il 48,13% di Rusal, secondo produttore mondiale di alluminio dopo la Cina e primo in Russia. Il 23 aprile scorso, il segretario del tesoro americano Steven Mnuchin aveva lasciato intendere che il prezzo per cancellare Rusal dall'elenco delle compagnie russe sanzionate sarebbe stata l'uscita di scena di Dyeripaska. Quest'ultimo è uomo considerato vicino al presidente russo Vladimir Putin e pare abbia intrattenuto rapporti anche con Paul Manafort, l'ex presidente della campagna elettorale di Donald Trump. Tira una brutta aria, dunque, come sottolinea l'ex presidente Mikhail Sergeyevich Gorbachev in un'intervista rilasciata in esclusiva al nostro direttore Giulietto Chiesa. Per Gorbachev la ritirata di Dyeripaska è un segnale di preavviso mandato a Vladimir Putin alla vigilia dell'inaugurazione del suo quarto mandato. La guerra ibrida è in pieno sviluppo. Una guerra commerciale transatlantica potrebbe essere all'orizzonte. Durante la sua visita a Washington Angela Merkel non è riuscita a convincere la Casa Bianca a estendere l'esenzione all'Unione Europea dai dazi americani sui metalli. Di più, Donald Trump ha lanciato un ultimatum a Bruxelles, al Canada e ad altri paesi alleati. O le quote o i dazi, al 25% sull'acciaio e al 10% sull'alluminio. Tutto questo in palese violazione del principio della libera circolazione delle merci e delle regole del WTO, che vietano le cosiddette restrizioni volontarie alle esportazioni. L'ultimatum scade martedì. Una prima risposta dall'Europa è arrivata già domenica. Germania, Francia e Regno Unito intendono insieme difendere i propri interessi commerciali in modo deciso. Il come lo vedremo. Secondo Global Firepower, l'Iran sarebbe militarmente più potente di Israele e Arabia Saudita. Nella classifica, che valuta il coefficiente di potenza di 136 stati attraverso l'analisi di una combinazione di fattori, tra cui il numero di soldati e di armi, riserve di danaro, lunghezza delle frontiere e disponibilità di risorse naturali, in primis il petrolio, l'Iran guadagna tre posizioni rispetto a Israele, che ottiene solo il sedicesimo posto, sebbene il suo budget militare superi quello iraniano di almeno tre volte. Al ventiseiesimo posto, invece, troviamo l'Arabia Saudita, apparentemente più debole, ma con un budget militare nove volte superiore a quello di Teheran. Stati Uniti, Russia e Cina, conquistano il podio. Secondo l'ex ambasciatore britannico Craig Murray, Londra avrebbe invitato i redattori delle principali testate a tacere su alcuni dettagli del caso Skripal, per motivi di sicurezza nazionale. La censura riguarderebbe in particolare Pablo Miller, noto reclutatore di spie per conto dell'MI6, ritiratosi a vita privata proprio a Sainsbury. Da lì Miller ha continuato a lavorare per la Orbis Intelligence di Christopher Steele, l'agente dell'MI6 a capo delle indagini sul caso Litvinenko, poi assoldato dalla statunitense GP Fusion con il compito di compilare un finto dossier su Trump. Ciò, commenta Craig Murray, rende estremamente probabile il fatto che l'intero incidente accaduto a Skripal sia collegato al dossier su Trump, lavoro a cui pare avesse anche egli partecipato. Skripal forse sarebbe stato sul punto di rendere pubblico il dossier anti-Trump per denaro, per poi tornarsene a Mosca. E allora meglio un tentativo di avvelenamento, magari accusando i russi. È un inside job, ne è convinto Clive Ponting, a lungo funzionario per il Ministero della Difesa e per l'intelligence britannici, che precisa, un affare interno finalizzato non ad uccidere Skripal, ma ad ammonirlo.